Qui andiamo dalla continuità amministrativa che parte dal centro-sinistra di Alessandrini e arriviamo al fallimento del centrodestra di Carlo Masci, il mandante di un delitto che non si è perpetrato e poi l'esecutore che ha voluto ripercorrere tutto il percorso fatto da Alessandrini e quindi quello che noi abbiamo sempre definito lo scempio della riqualificazione dell'area di risulta con privatizzazioni, cementificazione e quant'altro e oggi invece abbiamo la dimostrazione che quello che abbiamo sempre detto dal primo momento era vero, cioè che un progetto che non aveva discusso con la città, che non si era confrontato con la città non era appetibile né per la città stessa né per eventuali investitori o finanziatori che avrebbero dovuto partecipare al bando. La gara infatti è andata deserta e questa è la dimostrazione che abbiamo sempre avuto ragione fin dal primo momento. Scampato pericolo di 20 anni di privatizzazione del centro città, dovevano essere costruite delle residenze private, parcheggi, tutti i 2000 posti auto dell'area di risulta dovevano essere privati, così come i 900 e passa stalli del quadrilatero centrale a 7 euro al giorno per 18 anni. Questo è il grande fallimento di Masci che prima ha tradito la città poiché si era presentato alle elezioni con un mandato elettorale completamente diverso, ricorderete tutti quanto si erano opposti i rappresentanti del centro-destra a quello che proponeva il centro-sinistra e poi diventati maggioranza lo hanno invece portato avanti, approvato e addirittura messo a bando di gara con l'idea di mettersi una spilletta sul petto e addirittura peggiorando l'ipotesi con le bizzarrie tipo la pista da sci. Per noi ci sono dei vincoli, cioè quella fu una proposta che riguarda il fatto che l'area di risulta è pubblica e pubblica deve rimanere, non ci sono privatizzazioni da fare e il passaggio che oggi va fatto è quello del confronto con la città. Quello che non è stato fatto prima è il grande errore di negare l'ascolto della città non deve essere ripetuto e se alla città sarà gradevole l'idea e il progetto verrà fatto con una sostenibilità economica e finanziaria sostenuta anche dai commercianti sosterremo questo progetto.